Migliaia di euro per sistemare il prato di Colle Maggio, ma dopo la perdonanza si è di nuovo al punto di partenza. E proprio in questi giorni ci sono gli operai al lavoro per sistemare il prato, cioè altri soldi da spendere. La denuncia arriva dal PD. La questione Prato in questi anni è stata molto dibattuta. Quest'anno il palco è stato posto più vicino alla Basilica per non andare sul prato. Sono stati montati dei salva prato per non avere problemi, ma il prato si è rovinato lo stesso. Per il PD l'incongruenza sta anche nel fatto che si poteva evitare di montare il prato prima. Noi crediamo che il prato sia in questo momento esemplare della schizofrenia di questa amministrazione, che per la corsa alla propaganda spende soldi dei contribuenti, delle cittadine e dei cittadini che potevano essere investiti su servizi fondamentali per scelte che noi non comprendiamo. Si è prima rimesso a posto il prato, non considerando che i concerti della perdonanza dell'anno scorso l'avrebbero devastato. Spesi migliaia di euro, concerti, a quel punto c'è necessità di ulteriori lavori. Altri migliaia di euro spesi, un anno il prato chiuso proprio nell'anno giubilare e che cosa si fa? Lo si riapre a qualche giorno dai nuovi concerti della perdonanza che sapevamo già avrebbero di nuovo devastato quel prato. Si è detto che avrebbero utilizzato un salvaprato che è costato 70.000 euro, abbiamo visto che non è servito a nulla. A questo punto si poteva attendere di riposizionare il prato subito dopo i concerti della perdonanza di quest'anno. Quanto meno si sarebbe spesi molti meno soldi degli aquilani. Però la corsa alla propaganda, a far vedere che tutto funziona, ha portato a quest'ennesimo scempio di soldi pubblici.